lotta campanilistica succede succede da sempre in qualsiasi nazione il confronto tra tra esseri umani anche anche vicini quindi il calcio che non è se non è nient'altro che lo sport più popolare che raccoglie più di più gente possibile all'interno di una di una città è inevitabile che quello che succede è il confronto anche fisico quindi non si può non si può biasimare chi lo fa e non è sinceramente chi lo fa non vuole neanche essere compreso neanche essere accettato chi vive in questa maniera sceglie totalmente di di rappresentare se i suoi amici e la sua sottocultura